ciao a tutti amici dal doc allora stiamo vedendo un file in excel aperto come potete vedere con un grafico che come dire susciterà grande emozione dal titolo quante pizze ho mangiato ogni mese risulta tra l'altro un clamoroso 37 a luglio ma ovviamente sono numeri totalmente a caso che ho messo e quindi mi dispiace aver deluso alle folle con questa diciamo dichiarazione allora dunque vi voglio far vedere come non spostare i grafici in excel quando allarghi o restringi le colonne vi faccio immediatamente vedere così capita meglio parliamo tipo non so tra l'altro mi viene a pensare numero di pizze sembrano le tartarughe ninja ma questo è un altro discorso allora vedete se io allargo una colonna questa il grafico vedete va a sinistra a destra a seconda dell'allargamento meno che faccio della colonna potreste avere necessità di dire no io voglio che questa questo questo grafico rimanga fermo quindi io allargo le colonne e il grafico rimane lì fermo immobile come non so come un quadro una parete come fare andiamo subito a vedere allora dovete fare un col tasto sinistro del mouse un clic diciamo in questa zona sinistra del titolo in modo da selezionare tutto il grafico fate dopo tasto destro e andate a selezionare formato area grafico ecco qua vedete che dopo si apre qua sulla destra un certo menu dovete premere qua sulla destra dove appunto vedete questo sorta di quadrato non so come definire un nullo comunque sulla destra c'è questo quadrato con due linee una verticale o orizzontale cliccate su proprietà quindi in modo da allargare qua la voce e dovete mettere un pallino su non spostare né ridimensionare con le celle ecco qua ho messo un pallino qua adesso ritorniamo al grafico e come potete vedere il nostro punto grafico rimane fermo anche se allargo meno le tabelle rimane assolutamente fermo immobile se ovviamente cambiate idea volete che modificando le colonne il grafico torni a muoversi ritornate dove eravamo prima mettete un pallino su sposta e ridimensiona con le celle e come vedete il grafico si sposta in contemporanea alle modifiche che fate sulle colonne carissimi con questa pillola vi saluto vi auguro una ottima serata e a presto dal doc sempre al top